Aia Bambini Aia 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 D'ame Aia Aia D'ame Aia D'ame Cosa? Un ragno? Non c'è nessun ragno qui! Vai, Shulk! Pensaci tu! Shulk! Prendi questa, che ti aiuterà! Forza ragazze! Doobbe! Pentista! Doobbe! Doobbe! Un classico! Beh, questa volta non prendo la pompa! Prendiредita, che ti aiut quando sifunctioni è carnappo sul passare! Qu estuv vagi sulsemb conferences? ...non rinco la pompa è finato.